La parzelletta di Geppo Due carabinieri sono insieme di pattuglia, no? Sono seduti in macchina e stanno passando un po' di tempo A un certo punto uno dei due tira fuori la settimana enigmistica e si mette a fare i cruciverba A un certo punto è arrivato a un cruciverba e fa così 44 orizzontale Contengono i piselli E il collega ci pensa un attimo e gli fa Suoi mutande? Ma no, ma quale mutande? Inizia con la B E allora suoi boxer La speglia dei gladiatori Dimensione suonarosa